La falsa stazione spaziale, un'altra impossibilità, dal canale di Taboo Conspiracy. Queste scie delle stelle sono state filmate in California da BML SB69. Hanno impiegato due ore e mezza per filmarle. Nord. Sono bellissime, ma ogni piccolo movimento della macchina da presa potrebbe rovinare le scie delle stelle. Queste stelle si presume siano state filmate dalla ISS che sfrecciava 27.600 km orari. Le stelle. Dallo spazio. Qual è il problema? In due ore e mezza si presume che la ISS avrebbe dovuto percorrere 69.000 km. La circonferenza dell'acclamato globo della Terra è di soli 40.075 km. In altre parole, la ISS doveva orbitare la Terra 1,7 volte mentre filmava queste stelle. Impossiballe le stelle. Dallo spazio. Grazie di aver guardato. Per chi sa che non si tratta di bufala e desidera fare le proprie ricerche sulla Terra Piana usate le playlist del canale di Tinelli Dino. Grazie. 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 Grazie.